C'è l'università un'occhio, no, non è fatta, non è fatta, non è uva. L'università unico, ha l'università unico, no, non è l'università unico. Vincenzo, vincenzo, cioè manco buongiorno è rischio, ho detto buongiorno, è educato, è educato, è educato, ho fatto essere educato, è educato, senti ma dalla strada quando facciamo la stradina di ritorno che usciamo la Tana del Ghiro, poi ci sta quella, quell'immissione diciamo che tiene la possibilità di scendere dai due lati, scendiamo dalla Tana del Ghiro, poi passiamo sotto al ponte che ci facciamo tutto l'esterno, l'esterno a sinistra, anzi che farci la nazionale, no ci facciamo tutto, passiamo sotto al ponticino, Poi un po' più avanti ci sarà quella strada che permette di scendere nei due lati Poi sto, sto, sto Grazie a tutti. 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 a tutti.